Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. A Castellalto nuove misure per le famiglie in difficoltà che purtroppo crescono, non solo sul territorio comunale. L'amministrazione ha messo in campo diverse iniziative per dare una mano a chi si trova in un momento complesso. Io innanzitutto come sindaco e capo dell'amministrazione, nella nostra campagna elettorale, proprio la vicinanza alle persone che hanno bisogno è stato sempre detto e questo noi lo facciamo tutti i giorni. In questo periodo natalizio abbiamo ancora dei buoni spesa che abbiamo erogato alle famiglie proprio bisognose. Oltre a questo c'è la possibilità di non pagare, di fare domanda per non pagare la terza e la quarta rata della Tari. Anche questa è una cosa importante. E poi nelle famiglie proprio più bisognose abbiamo anche un piccolo fondo per andare incontro a queste famiglie nel pagamento delle bollette di luce e gas che purtroppo in alcune famiglie arrivano proprio delle botte forti e quindi chiedono aiuto e noi come amministrazione ci siamo. Sono aumentate quest'anno le richieste? Sì, devo essere onesto, quest'anno sono aumentate. In questo momento ancora peggio perché alcune persone, alcune famiglie non hanno neanche più il reddito di cittadinanza. E questo veramente mette in difficoltà queste famiglie che si trovano in un momento particolare e quindi noi come amministrazione è un nostro punto fermo, ci siamo, quindi cerchiamo di aiutare tutti.